Questo è uno dei serpenti più pericolosi del mondo. I serpenti di mare costituiscono una sottofamiglia di serpenti che popolano l'ambiente marino. Sono note 69 specie, divise tra 7 generi. Sono rettili anfibi, assorbono l'ossigeno attraverso la pelle, e hanno quindi bisogno di uscire dall'acqua per respirare. Si stima infatti che passino il 25% del loro tempo sulla terraferma ed il restante in acqua. La maggior parte di essi è altamente velenosa, tranne il genere Emidocephalus, che si nutre quasi esclusivamente di uova di pesce. Il veleno è in grado di uccidere anche un uomo, ma fortunatamente i piccoli denti sono funzionali solo per colpire altri pesci, in particolar modo anguille. L'habitat preferito per i serpenti marini varia da specie a specie. Si possono trovare tra le barriere coralline, tra le mangrovie, nei pressi delle isole ed anche in mare aperto. Sono per lo più confinati nelle calde acque tropicali dell'oceano indiano e dell'oceano pacifico occidentale.